Mico ti dà il benvenuto alla sua guida rapida. In questo video parleremo di tutti i contenuti disponibili su Mico. Toccando il pulsante Explore, vedrai un insieme di widget con contenuti basati sulle preferenze del tuo bambino o bambina. Per visualizzare tutti i contenuti disponibili in modalità galleria, tocca il pulsante nell'angolo in alto a destra. Qui puoi fare di tutto, ballare con Mico, conversare, fare dei giochi e molto altro ancora, Facendo clic su Mico Max, vedi anche tutti i contenuti premium disponibili con l'abbonamento a Mico Max. Ne parleremo dettagliatamente in un altro video. Nel frattempo, scopri tutto quello che Mico ha da offrire. Visita il nostro centro assistenza all'indirizzo help.mico.ai per altre informazioni. Forza Mico!